Ciao a tutti! Oggi prepareremo i burger di broccoli. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora e trenta minuti circa. Gli ingredienti sono ci mette di broccoli, parmigiano, pangrattato, sale, pepe e acqua e per il ripieno scamorza. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il sale, chiudere con il coperchio, mettere i bloccoli nel varoma, posizionare il varoma, chiudere con il coperchio e cuocere per 25 minuti. Temperatura varoma, velocità 2. lasciare intiepidire e svuotare il boccale. Una volta tiepidi, mettere i broccoli nel boccale. Aggiungere il pangrattato, il parmigiano, il sale e il pepe. Ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 4. Il composto è pronto, adesso formeremo gli hamburger. Prendere una parte del composto, posizionare dei pezzetti di formaggio, chiudere e formare l'hamburger e posizionarlo su una teglia rivestita con carta da forno. Proseguire così per il resto del composto. Irrorare con un filo d'olio e cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 20-25 minuti. Burger di broccoli. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!